buongiorno buongiorno a tutti buongiorno interisti siete fomentati e siete qua tutti in preda al fomento e avete ragione sono fomentato anch'io va bene mi dondolo di fomento per voi perché il giorno è giunto quest'oggi andiamo a fare il cattomercato dell'inter prima di iniziare iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti e condividete questo video presso parenti amici amanti mogli fidanzate network di youtube di instagram voglio il massimo numero di commenti e pareri su questo calciomercato su questo cattomercato dell'inter sul calciomercato dell'inter che farei io e che tra poco vi vado a dire seguitemi su tutti i social specialmente twitter scaricate l'app di one football che vi lascio in descrizione e che vi dà info sul calciomercato reale diciamo sulle trattative che si stanno per facendo va bene sulla vostra squadra sulle altre quindi scaricatela tenetela nei vostri dispositivi ve la lascio in descrizione per fare il download di one football seguite anche tutti su instagram la bibbia interista va bene la bibbia interista vi lascio anche di quel link in descrizione che è una pagina sulla vostra squadra cattiana oltretutto che vi consiglio allora voi starete qui diciamo a sperare che io vi dica quel famoso nome che vi ha tenuto in fibrillazione per mesi sapete che vi dicevo con l'acquisto di ericsson o io il giocatore che riequilibra tutto diciamo che redime tatticamente l'inter di conte la rende sostenibile era un esterno e oggi ve lo devo dire oggi vi devo dire questo nome che non vi ho detto per tanti mesi e lo so che lo volete lo so che non state aspettando altro che quel nome ma ve lo dico alla fine del video così state qui non rompete i maroni va bene non rompete mi maroni e lo saprete alla fine del video così vi sorbite tutte le altre cagate che vi dirò nel frattempo allora iniziamo con la rosa dell'inter intanto riguardatevi anche i cattomercati che ho fatto in precedenza fiorentina milan juve iscrivetevi perché poi domani farò quello della lazio poi l'atalanta la roma il verona e vedremo poi se vorrete anche altri allora dicevo andiamo con la rosa dell'inter che avevo a disposizione nel patrimonio come amo chiamarlo che avevo a disposizione per poi fare le mie operazioni allora portieri dell'inter andanovic brazao padelli e berni in difesa abbiamo defray screener bastoni godine ranocchia va bene questo ce l'abbiamo ogni anno esterni destri il nuovo acquisto va giannidis va bene varidoianis abbiamo d'ambrosio l'ho messo tra gli esterni destri akimi candreva moses e lazaro anche se è stato già prestato quindi non lo conto neanche a sinistra invece abbiamo asamoah dauberc va bene che è rientrato young e perisic ok che rientra dal prestito al e quindi ce lo ritroviamo a casa centrocampo abbiamo brozovic agume barella sensi vessino gagliardini joe mario borca valero e lo metto anche se andrà a svincolo e il buon christian ericsson il giocatore preferito di antonio conte in attacco abbiamo lucacchio lautaro sanchez e esposito andiamo con le cessioni perché ho fatto anche qui ormai lo devo dire in tutti i video un lavoro certosino sulle cessioni c'era quell'altro che diceva passiamo alle cose formali per gli acquisti io dico ho fatto un lavoro certosino sulle cessioni allora la prima cessione che vado a fare è il prestito oneroso in portogallo del buon brasao va bene per 200 mila euro un prestitino onerosino così per far giocare il ragazzino ok in che squadre ma spesso a un esiziale sporting braga a un brutale marittimo a uno specioso rioave squadre così di medio alta liga portoghese per circa 200 mila euro ok berni lo lascerei a scadenza che anche lo storytelling su berni ci ha ci ha reso strepitante tre quarto di marrone va bene quindi vada a fare le sue scene altrove i suoi sketch capito che vengono sempre condivisi basta abbiamo già dato in scadenza ciao caro tommaso diamo in prestito oneroso anche il buon varidoianis ok aiutiamolo mister vagianidis aiutiamolo mister varidoianis lo diamo in prestito oneroso anche qui a chi ma penso a un crotone a un verona volendo anche a una spal ce lo vedrei bene o allo spal come dice il buon asso di roma che saluto e a quanto ma un prestitino oneroso da 300 mila euro tanto per farlo giocare insomma aiutiamo mister vagianidis con un prestito da 300 mila euro per farlo giocare candreva lo cederei e a chi ma penso a una squadra per esempio una metà classifica italiana penso su tutte ad un parma ok o magari anche un cagliari se di francesco ha bisogno di esperienza o magari un benfica a un villareal a un valencia perché no capito una medio alta liga a un beti a un beti capito a quanto a un civiglia a quanto quattro milioni e mezzo bastano e avanzano moses con tutto il rispetto non lo riscatterei oltretutto delle delle tanto esaltate presentazioni dell'inter media house devo dire che quella che mi è piaciuta forse di più a parte quella di godin che vabbè caratteri e caratteristica mi è piaciuta anche quella di moses molto bello un bravo ragazzo con una storia particolare alle spalle però non lo riscatterei asamoah io rescinderei chiamerei in ufficio e gli dico quadro ascolta vogliamo salutarci bene una bella rescissione perché non so quante garanzie possa dare il ragazzo d'albert d'albert io lo cederei dove in ligon la squadra o torna al inizia o un nante un saint etienne un re di vivo rain capito squadre di medio alta ligon dove ha ancora qualche credito magari per 7 milioni e mezzo non chiedo mica la luna 7 milioni 7 milioni e mezzo così cerchiamo di cederlo per esi ce lo cediamo ma in una trattativa che vi dico dopo dandogli un valore di circa 15 milioni di euro brozovic lo cediamo in una trattativa che vi dico dopo per un valore di circa 55 milioni di euro poi se se si riesce a farselo pagare di più ancora meglio ma me ne bastano 55 vessino lo cediamo in una trattativa che vi dico dopo per 20 milioni anche qui vale lo stesso discorso se si riesce a farsene dar di più ancora meglio joao mario va bene joao mario joao manlio lo cediamo anche lui a chi o uno spartac mosca capito torna a mosca ma cambia squadra così per futurismo a una fiorentina che è una puntatina che avevo dato io e che e che rendo rivitale o a una squadra di ligana anche lui tipo un nizza un ren un saint etienne una squadra di questo tipo potrebbe essere o una media liga un medio alta liga un getafe una squadra di questo rango qui insomma e per quanto 15 16 milioni anche qui non è che si chiede alla luna basta insomma che abbiamo qualcosa in cambio e che il giocatore vada a svernare altrove borca valero lo svincolerei esposito prestitino oneroso anche per lui ha magari una neopromossa di serie a penso un crotone un benevento uno spezia per mezzo milione di euro 0,5 milioni di prestito oneroso volendo anche biennale così si fa magari un esperienziella tattica tanto per non avercelo tra i piedi insomma per per fargli fare anche esperienza insomma no gagliardini anche andiamo a cedere in una trattativa che vi dico dopo dandogli un valore di 15 milioni di euro va da sé che se uno fa la sommatoria tra tutti questi valori di o cessioni o trattative che andremo a fare incedendo il valore delle uscite è di circa 142 milioni loro tondiamo a 140 che tanto ci bastano ugualmente quanto budget chiediamo alla proprietà allora come dice il buon antonio conte non ci sono tanti soldini va bene non mi sembra che girino i miliardi come come tutte le squadre poi del resto in questa situazione ci bastano 35 milioni di euro credo che si possano trovare in un cassettino facendo le operazioni che vanno a incidere magari anche nei bilanci degli anni successivi con dei prestiti dicono insomma mi bastano 35 milioni di euro non è una cifra insomma di chissà quale levatura penso la si possa trovare sommiamo i 140 ai cia e i 140 ai 35 140 di cessioni e 35 di budget e abbiamo un totale budget per acquisti di 175 milioni di euro per fare mercato cosa ci serve allora ci serve un portiere di riserva un secondo portiere due centrocampisti ok un esterno sinistro e anche un attaccante di un certo peso che voglio andare a prendere chi sono andato a comprare qui ragazzi bel fomento è pochi acquisti perché sono cinque ma tutti di un certo di un certo fomento io reputo tutti adatti tutti abbastanza pepaci va bene che vi possono eccitare va bene poi mi dite quello che vi ha fomentato ed eccitato di più allora come portiere partiamo dalle cose meno fomentanti semplicemente mi vado a richiamare il buon radu va bene jonut radu dal parma e fa il secondo dietro andanovic tra un anno eventualmente si parlerà di andare a prendere un musso in sostituzione di andanovic magari inserendo proprio radu nella trattativa con l'udinese così da gestire il post andanovic un po come ha fatto la juve con buffone scesni però quest'anno andanovic titolare fisso e radu riserva secondo portiere va bene bene a centrocampo i due che andiamo a prendere chi sono allora andiamo dal barcellona a prenderci vidal che così conta è contento e la smette di rompere i maroni anche lui con questo vidal 15 milioni al barcellona che tanto vidal è anche in uscita però se si riesce a prenderlo anche per meno meglio ma mettiamone 15 per sicurezza e ci andiamo a prendere il buon arturo vidal per il centrocampo ce n'è un altro ce n'è un altro ragazzi e questo è il nome diciamo il nome fomentiere il nome pesante il nome che sconvolge il nome che eccita il nome che proietta il nome che fa sognare e cos'è chi andiamo a prendere gorezca leon 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 di resident evil 2 va bene leon gorezca dal bayern monaco mi piace per quanti soldi semplicemente uno scambio per cui noi diamo brozovic e perisic per un valore complessivo se stiamo alle valutazioni che vi ho dato prima di 70 milioni e tenete conto che su brozovic sono stato anche basso e anche su perisic volendo perché ho fatto un 55 più 15 se uno è bravo può anche essere un 60 più qualcosa diamo brozovic e perisic al bayern noi ci prendiamo gorezca il bayern avrà un centrocampo un po più qualitativo perché brozovic ha più tecnica rispetto a gorezca perde un pochettino di fisicità magari evolve facendo un centrocampo un po più guardioliano permettetemi e noi andiamo a prenderci quella fisicità di cui conte ha estremo bisogno capito e qui e anche qui è tutto è tutto plus valenziere tattico che si può fare anche con una società amica e con la quale ci sono già stati numerosi rapporti quindi ripeto lyon gorezca all'inter in cambio di brozovic e perisic dati al bayern monaco come esterno sinistro andiamo a prenderci il buon narco salonso va bene che sembra una serie tv di netflix narco salonso il buon marco salonso ex fiorentina conosce la serie a esperto contiano conosce anche conte dando al celsi il cartellino di mattias vessino più 10 15 milioni grosso modo 10 15 milioni più il cartellino di vessino ok marco salonso e poi una mia fissa e poi una mia fissa perché non può essere altrimenti ci andiamo a prendere il buon fallo belotti dal torino per 45 milioni più il cartellino di gagliardini 45 milioni più il cartellino di gagliardini quotato 15 e anche qui è tutto plus valenziere tattico che possiamo fare tra le due società ci andiamo a prendere il fallo belotti ok questo è sostanzialmente il calcio mercato in entrata che ho fatto radu vidal gorezca marco salonso e belotti saldo finale somma dei costi 175 il budget era 175 grosso modo a zero con tutto plus valenziere che possiamo fare con celsi con bayern e con torino vado brevemente a ricapitolarvi la rosa che il mister avrà a disposizione per tutto l'anno allora come portieri andanovic radu e padelli come terzo come difensori difesa sostanzialmente intatta defray screener godin bastoni e ranocchie esterni i destri hachimi ed ambrosio esterni sinistri marco salonso e young che è anche un jolly che puoi usare in caso di estrema necessità a sinistra o in difesa e centrocampisti abbiamo agume barella gorezca e vidal trequartisti abbiamo ericsson essensi ho diviso ho voluto suddividere le due parti perché userò il 34 12 se uno usa il 352 i centrocampisti diventano sei invece volendo fare i pignoli e dividendo ho messo agume barella gorezca e vidal nel centrocampo a due per il centrocampo a due e trequartisti per l'uno che se lo dividono ericsson essensi attaccanti abbiamo lukaku lautaro martinez belotti e alexis sanchez va bene vado a leggervi la formazione che vi ripeto è essere schierata con un 3 4 1 2 l'ho studiata apposta per diciamo supportare ericsson in questa formazione cioè quello che mi ha mosso in sto calciomercato è stato semplicemente il dire vado a costruire un inter che possa vincere sicuramente che possa fare bene in champions che possa andare il più avanti possibile in tutte le in tutte le competizioni in cui è impegnata con vista scudetto e che possa al posto di star lì a interrogarsi a frustarsi i maroni per aver preso ericsson essersi resa conto di aver preso un giocatore che potenzialmente può essere molto forte e supportarlo costruendogli attorno diciamo una intelaiatura tattica e tecnica capace di supportarlo nel bene e nel male quindi 3 4 1 2 vado a leggervi la formazione titolare allora andanovic in porta poi difesa partendo da sinistra godin defray al centro e screener sul centrodestra che quando ha giocato a centrodestra non ha fatto malissimo esterno sinistro marco salonso centrocampo a due titolare con barella e gorezca esterno destro akimi trequartista ericsson e in attacco lautaro e lukaku questa è la formazione titolare vi faccio le note aggiuntive allora come avete visto ho voluto confermare sia screener che lautaro perché credo che screener sia un giovane che va tenuto che può imparare anche la difesa a tre con un po venendosi incontro lui e il mister conte cerchi di schierarlo nel centrodestra e lui diciamo cerca di imparare ma mi dispiacerebbe cederlo da interista perché uno comunque affezionato alla squadra lautaro di cederlo non se ne parla perché come vi dico da mesi l'inter deve puntare a confermarlo quindi l'ho fatto anch'io abbiamo mantenuto intatta vi ripeto la difesa con un bastoni che volendo può anche giocare titolare al posto di godin per me problemi non ce ne sono messo godin solo per una questione di di convenienza così ma si può tranquillamente mettere anche bastoni gorezca barella è un centrocampo molto solido un centrocampo muscolare è un centrocampo che con la conferma di barella titolare va a premiarne la crescita cioè già il primo anno barella è stato forse l'uomo più simbolico dell'inter contiana in questo secondo anno qui se ci si aspetta anche un ulteriore upgrade io penso che barella possa tranquillamente giocare titolare nella posizione in cui l'ho messo e ho ceduto è ho ceduto brozovic perché come vi ho sempre detto temo che con ericsson si pestino un po' i piedi e poi è un giocatore che come atteggiamento così a me tecnicamente piace da impazzire come giocatore anche se un po' discontinuo però la discontinuità l'atteggiamento il fatto di prestarsi i piedi con ericsson il fatto di poter ancora monetizzare l'abbiamo ceduto poi belotti che è semplicemente il discorso che vi ho fatto in sti mesi che può sostituire sia lautaro giocando assieme a lukaku facendo lui lautaro può anche sostituire lukaku facendo copia lautaro belotti facendo lui il lukaku è uno che può sostituire tutti davanti belotti è uno che giocherebbe tante partite ne sono sicuro e sanchez sostanzialmente farebbe un po' la quarta punta ma vi ripeto tra le tante di campionato a partita in corso nelle coppe tutti e quattro giocherebbero molto ok e avresti tante frecce al tuo arco al posto di avere sanchez che ogni due gare si infortuna ed esposito che ancora consentitemi piuttosto acerbo giustamente sensi fa semplicemente il vice ericsson che può anche per avere tempo per recuperare bene dall'infortunio poi si decide via via chi far giocare e vidal attenzione attenzione può giocare volendo sia nei due di centrocampo dietro ma anche come trequartista alla bisogna sono sicuro che verrebbe sempre fuori la critica a conte perché fa giocare vidal trequartista e non ericsson mi ci gioco mezzo marone però insomma è per farvi capire anche la duttilità del buon vidal e della squadra tutta che può giocare con il 3 4 1 2 volendo anche con un 3 5 2 mettendo vidal barella gorezzca senza alcun problema e quindi cioè conte questo per conte è un confettino secondo me cioè è una squadra che ha pochissime controindicazioni contando panca e titolari pensano penso vi piaccia ditemi cosa ne pensate un bacione condividetela presso tutti